Partita molto importante, Maestro, per te forse lo è ancora di più che sei il grande ex. Che match ti aspetti domani alla Ricci? Mi aspetto un match insomma difficile perché comunque andare a Salerno contro la Salernitana è sempre un'impresa diciamo. Squadra in difficoltà la Salernitana, c'è stata un po' di tensione in settimana, che squadra ti aspetti? Sì, ho visto, ho avuto tre sconfitti di seguito, quindi conosco l'ambiente, conosco tutto, quindi mi aspetto coltello alla goglia da parte della Salernitana e voglio vincere sicuramente. Due Ejarosischi avete fatto molto bene lì lo scorso anno, insomma l'ambiente, che ambiente deve attendersi Pescara domani? È un ambiente particolare perché piazze come Salerno ce ne sono poche diciamo, è ambiente caldo e anche senza pubblico si sente, si sente. Fabio parliamo un po' di te perché primo mese e mezzo sei stato senz'altro il miglior giocatore del Pescara, poi un lungo momento di appannamento, perché? Ma non lo so nemmeno io, diciamo un po' tutto, un po' il cambio del mister, un po' il momento di difficoltà, ci può stare. Ti senti più mezzala o più trequartista, nel senso dipende anche da questo il tuo momento, virgolette no? Ma sì no, nel senso è anche colpa mia, non dipende dal ruolo, è solo meglio svegliare un po' di più. L'ultima, un gol alla Rechi domani e esulti oppure come fanno tanti ex per rispetto o no? No, per rispetto o no perché ha fatto un bellissimo anno e ho dei bellissimi ricordi quindi sicuramente se farò gol non esulterò. Ma firmeresti per un pari? Il prefigo è sempre vincere però non si sa mai, sì dai.